Presidente Nello Musumeci, negli scorsi giorni avete inaugurato questo presepe a Palazzo d'Orlean, un messaggio di auguri per i siciliani. Intanto il presepe è importante, mi auguro che in ogni casa sia stato allestito un piccolo grande presepe, è un momento per stare assieme, è un momento per ritrovare il senso della famiglia, è un momento per ripercorrere con la memoria la infanzia, quando con i nonni, con i parenti si cercava il muschio, la carta argentata per fare il fiume, per fare il laghetto, si litigava dove mettere l'asinello o dove mettere il pastore. Il presepe è un modo per ritrovare la famiglia, oltre a essere una testimonianza di fede e di civiltà, perché noi siamo figli della civiltà cristiana, latina ed ellenica. Ed io credo che anche nelle scuole debba esserci un presepe, anche in quelle scuole dove ci sono bambini che appartengono a famiglie che professano una fede religiosa diversa. Innanzitutto perché il presepe simboleggia una famiglia povera che sfugge alla prepotenza di un uomo e costringe la donna a partorire in una grotta al freddo e al gelo. E poi perché nessuno può avere paura di Gesù che nasce in una grotta. E se mi è consentito, avere rispetto per la religione degli altri non significa doversi vergognare della propria religione. Presidente, ma a Natale dovremmo essere tutti quanti più buoni, più tranquilli, tutti insieme. Ma questo potrà accadere anche all'interno delle istituzioni dove in questi ultimi momenti vediamo che ci sono belligeranze latenti o ufficiali? La politica è sempre stata belligeranza, la politica è sempre stata scontro, incontro. Un momento per dividere nel passato è un momento per dividersi. Se lei si riferisce al Parlamento siciliano o nazionale, naturalmente io non metto lingue perché ho rispetto per il Parlamento. Se invece si riferisce alle dinamiche, al dibattito all'interno del mondo politico, è normale che ci riguardi. Quando la politica non si confronterà più e non avrà più la passione per difendere le proprie idee, l'appiattimento sarà la morte, la fine della politica e delle diversità. Io invece credo che il Natale, ma non soltanto il Natale, debba invitare tutti alla riflessione. La Sicilia è una regione in ginocchio, lo è da 30 anni, prima con un finto sviluppo. Ora la neve si è sciolta e abbiamo capito che quello di 20 anni fa era soltanto uno sviluppo effimero che ha creato occupazione senza lavoro. 47% dei siciliani vive nella povertà e allora ognuno faccia la propria parte. Chi nella coalizione di governo, chi nella opposizione, ma ognuno faccia quello che ha giurato quando è diventato deputato. Giuro di adempire le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della regione e della Repubblica. Ecco, io credo che non dobbiamo mai dimenticare quello che abbiamo giurato di voler essere e di voler fare. Poi è chiaro che ognuno obbedisce alla propria coscienza. Io ho presentato un programma ai miei elettori, col mio governo lo sto portando avanti, ho chiesto 5 anni di tempo, tanti me ne sono stati concessi. Alla fine dei 5 anni mi presenterò al giudizio dei siciliani per dire ho promesso 10 cose, ne avrò fatte 8, 7, 5, 3. Non mi sottrarò alle mie responsabilità, ma sono ottimista perché intanto in questo primo anno oltre a mettere su una baracca che era distrutta abbiamo stanziato oltre 3 miliardi di euro che quando diventeranno cantieri, quando diventeranno fatture, quando diventeranno, avranno una ricaduta sul territorio si capirà che abbiamo lavorato bene. Ma ancora abbiamo 4 anni davanti, riqualifichiamo le strade, l'edilizia scolastica, stiamo intervenendo sul territorio senza rumore. Non sono mai venuto al vostro programma, a Bar Sicilia per esempio, mai. Eppure se avessi chiesto ai colleghi giornalisti, a lei, editore, la cortesia di ospitarmi penso l'avreste fatto più di una volta. E invece no, perché questo non è il momento per parlare, non è il momento per lanciare proclami, questo è il momento per lavorare in silenzio. Quando poi le cose sono fatte si informa l'opinione pubblica e si informano i siciliani, che invece erano abituati ai fuochi d'artificio, erano abituati alle luci psichedeliche, erano abituati alle interviste di un'ora, due ore, erano abituati al Presidente della Regione seminudo sulla spiaggia. No, 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 io credo che invece le istituzioni debbano mantenere sobrietà. Parlavamo del Natale, quindi fermiamoci al Natale adesso e lasciatemi fare gli auguri all'editore, perché il Signore ci ha dato tanta salute, ci associamo. Se crolla l'editore, crolla tutto. Ai giornalisti, senza i quali l'editore non saprebbe cosa fare. Sicuramente. Ai cameraman, anche quando stanno fermi con la telecamera sulla spalla, come sta facendo adesso. A tutti i collaboratori e se mi consentite, salute e serenità a tutte le famiglie, a tutti i siciliani che vivono in Sicilia, perché siciliani, perché residenti, perché per lavoro, perché presenti occasionalmente. Ai siciliani sparsi nel mondo, affinché ritrovino l'orgoglio della loro appartenenza e affinché si sconfigga questa malapianta della rassegnazione. Ecco, mafia e rassegnazione sono sempre stati i nostri nemici. Guardiamo al futuro con speranza e per i credenti e per i non credenti il presepe può essere un invito alla riflessione e alla meditazione, nella speranza che il 2019 possa essere un anno diverso e migliore. Augurio. Grazie. 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 Grazie.